In collaborazione con Vaccinazioni stop alle forze dell'ordine e agli insegnanti. Si procede per età. Slittano i richiami per le seconde dosi al 42esimo giorno. Cala ancora la curva del contagio. Sono 24 i positivi trovati su poco più di 500 tamponi. Per il secondo giorno consecutivo non ci sono decessi. Scuole dell'infanzia aperte a luglio. Petizione di oltre 2.100 cittadini tra insegnanti e genitori per dire no a bisesti e chiedere che si rendano gratuite colonie e centri diurni. Trento dopo i problemi di sicurezza registrati in centro da commercianti e residenti istituito dal sindaco un servizio di ronda a piedi costante dalle 8 alle 19 della polizia locale. Vandali in azione al centro sociale dei solteri. Sfondate porte e danneggiate gli spazi delle associazioni che attaccano. 2000 euro di danni per rubare qualche birra o poco più. In collaborazione con In a 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